È un acceleratore di particelle, il progetto LunaMV, che dovrebbe essere realizzato in sala B dei laboratori, all'interno di un bunker di cemento armato di 80 cm di spessore le pareti, che servono per schermare le radiazioni che si formano nelle attività sperimentali. È un acceleratore di particelle, quindi una macchina radiogena ufficialmente. Ovviamente questa schermatura blocca le radiazioni, questo certamente, però il problema è che ci possono essere eventi incidentali che sono ammessi anche dagli stessi laboratori di fisica nucleare, solo che loro ritengono che con le misure di prevenzione e di mitigazione possono essere in qualche modo gestibili. Però noi facciamo notare che lì non ci devono proprio essere attività che comportano radiazioni, lo dice anche l'Istituto Superiore di Sanità, lo dice la legge. L'articolo 94 del testo 1 dell'ambiente vieta di mettere vicino alle captazioni dell'acqua potabile materiale radioattivo o sostanze pericolose. Peraltro usano anche alcune sostanze che possono dare anche incendi e sversamenti. Quindi questa cosa è inaccettabile, anche perché poi non è immesso in sicurezza il sistema. Ma lo ammettono loro stessi, la stessa regione Abruzzo ha chiesto 170 milioni di euro per mettere in sicurezza il sistema del Gran Sasso, compresi i laboratori che evidentemente non sono in sicurezza, come dice anche la Procura. Quindi è veramente assurdo continuare a aumentare la pressione, il rischio incidentale in qualche modo, anche se fosse molto piccolo, però la vulnerabilità del Gran Sasso è molto alta e anche il valore. Voglio ricordare che un acceleratore di particelle è un po' più potente di quello che voglio inserire nel Gran Sasso. Nel 2013 ha avuto un incidente nei laboratori J-Park in Giappone, di laboratori di fisica nucleare come il nostro, però in superficie, quindi in una situazione anche più tranquilla. Ebbene, lo hanno irraggiato leggermente 30 ricercatori per questo incidente con materiale radioattivo e dopo l'hanno dovuto chiudere per due anni. E qui che facciamo in caso di incidente? Chiudiamo le captazioni per due anni per l'Aquila e Teramo? Beh, insomma, crediamo che lo stesso Istituto di Superiore di Sanità comunque ha detto che è in contrasto con la normativa vigente.